Sindaco tedesco, si è approvato il DUP, qualcuno lo chiama il libro dei sogni. I sogni quali sono e soprattutto sono realizzabili? Il DUP in buona sostanza è il nostro programma elettorale. Nemmeno in campagna elettorale abbiamo ipotizzato che quello fosse un libro dei sogni, tutt'altro. Chi ha avuto modo di riceverlo, perché siamo stati assolutamente trasparenti con la nostra città e riteniamo che la nostra città ci abbia votato anche in funzione della nostra trasparenza, leggendo quel libricino che abbiamo distribuito a tutti i cittadini, tutti hanno potuto vedere come abbiamo cercato di essere in maniera più assoluta concreti su quelle che sono le realtà della nostra città, senza divagare, senza fare sogni di nessun tipo, cercando di ragionare sullo sviluppo della nostra città. Oggi abbiamo approvato quello che è stato il documento della proposta elettorale che ci ha portato a vincere le elezioni e su quella proposta noi continueremo a ragionare. Certo, tutto sarà migliorabile, andremo ad ampliare, andremo a progettare ulteriori iniziative perché riteniamo che sulla base di quella progettazione e sulla base del documento oggi approvato Civitavecchia possa veramente crescere e possa trovare uno sviluppo che fino ad oggi onestamente non c'è stato. Sindaco, sono state diverse le critiche mosse dall'opposizione? Lei ha fatto anche un lungo intervento nel quale ha risposto punto su punto a quelle che sono state le critiche che sono state mosse? Beh, ma critiche spesso e volentieri strumentali, soprattutto da parte di esponenti di un'amministrazione che ci ha proceduto e che oggi ci ha lasciato in condizioni davvero difficili soprattutto per certe scelte che oggi noi stiamo condividendo perché ragioniamo in maniera molto aperta, lasciando una porta aperta anche con la minoranza mentre in realtà noi ci siamo trovati dei pacchetti già confezionati dalla precedente amministrazione che forse riteneva di vincere con molta tranquillità o comunque se non riteneva di farlo in maniera direi non proprio corretta, ha ritenuto di prendere decisioni, di fare delle scelte per la nostra città che erano scelte che invece andavano maturate in altro modo evitando poi di lasciarle in eredità ad un'amministrazione, parlo di differenziata, parlo dell'outlet, parlo di tante cose che oggi questa amministrazione deve risolvere con gravi difficoltà. Una delle critiche, Massimiliano Gasso, come diceva anche il sindaco, riguarda proprio la raccolta differenziata questo spettro della revoca della porta a porta. Non parlerei di spettro, è chiaro che oggi si sta cercando di porre rimedio a una situazione determinata dal fatto che la precedente amministrazione ha voluto partire a tutti i costi due giorni prima delle elezioni con l'estensione a tutto il territorio cittadino della raccolta differenziata. Evidentemente la stessa CSP non era ancora pronta, come ha avuto modo di dire lo stesso management della società ed è chiaro che oggi noi dobbiamo evitare che si vada a far scontare in primis ai lavoratori della stessa società e poi a tutta la cittadinanza questi costi eccessivi che oggi si stanno producendo. Stiamo già introducendo dei correttivi che verranno presentati nei prossimi giorni e che consentiranno insieme a un'azione di recupero su altri costi, a partire dalle consulenze, a partire da altre spese che sicuramente possono essere ridotte o evitate, consentiranno di salvare la CSP perché di questo si tratta. Il DUP riflette il nostro programma elettorale che è quello che evidentemente ha convinto i civili vecchiesi a darci fiducia ed è quello che cercheremo di realizzare in questi cinque anni di amministrazione.